L'assessorato al turismo della Regione Lazio vi invita a scoprire insieme le feste tradizionali dei comuni della Regione. Dal 27 al 31 agosto a Guarcino, in provincia di Frosinone, piati ed intorni. Una manifestazione nata per divulgare la musica bandistica nelle sue varie espressioni. Il festival si svolge all'interno dell'antico monastero del complesso Sant'Angelo, un punto d'incontro per l'arte musicale. Dal 29 al 31 agosto a Roccapriora, in provincia di Roma, Sagra dell'Agnello. Tre giorni dedicati alla scoperta di tradizioni popolari e alla degustazione di primi piatti tipici e del tradizionale Agnello cotto alla brace. Balli in piazza, musica e il 31 agosto, spettacolo degli sbandieratori delle Contrade di Cori. Il 30 e 31 agosto alla Bico, in provincia di Roma, festa di San Rocco. Sabato 30, processione e spettacolo musicale con ospite d'onore, Franco Califano. Domenica 31, esibizioni, sbandieratori e concerto di Ivana Spagna. Promozione delle feste tradizionali dei comuni della regione Lazio, a cura dell'Agenzia regionale di promozione turistica di Roma e del Lazio.